E' ancora giallo, sul furgone portavalori scomparso con 2 milioni di euro di ore, poi apparso completamente svuotato del suo contenuto non lontano dall'area di sosta di Badia Alpino Ovest sulla provinciale per Civitella. Al momento non si hanno più notizie neanche di Antonio Di Stazio, il guardia giurata della Securpol scomparsa nel pomeriggio di lunedì. Il telefono dell'uomo è staccato e non localizzabile, gli inquirenti al momento stanno scandagliando le immagini delle telecamere e di videosorveglianza delle aziende della zona per cercare elementi utili per chiarire l'intera vicenda, ancora avvolta nel mistero. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo si sarebbe fermato per far scendere uno degli autisti, probabilmente per effettuare un altro carico. Al suo ritorno però del mezzo non c'era più traccia, così come era scomparso il collega rimasto a bordo. Antonio Di Stazio, 60 anni, originario di Napoli, lavorava alla Securpol dal 2004. I suoi affetti, l'ex moglie e una figlia, erano rimasti in campagna. Prima ritrasferirsi in città, aveva abitato alcuni anni a Pieve al Toppo. Nell'ambiente di lavoro asserpeggia l'ipotesi che possa essere stato complice del colpo anche se viene definito come una persona non in grado di architettare o anche solo di partecipare a un blitz di questo tipo. Da quanto abbiamo raccolto ultimamente, pare intrattenesse rapporti di recente con una giovane ucraina. Rimane in piedi anche l'ipotesi che invece possa essere stato aggredito anche se nessuno sembra aver notato un eventuale assalto davanti alla sede della Ital Preziosi, da dove era scomparso il furgone blindato. Anche se lo scenario di un suo golo nella vicenda, malgrado lo sgomento dei colleghi, con il passare delle uve diventa sempre più probabile.